Felice di rivedere tutto, perché più più chi meno conosco tutti, tutti conoscete me. La cosa che vi possiamo garantire sarà il massimo impegno, lotteremo tutte le partite con grande dignità, quella che ha sempre avuto Reggio Calabria e la Regione. Quello ve lo possiamo garantire. Altro, beh, ci pò cosa dire, basta chiacchiere e pensiamo a fare risultati e a salvarci il più possibile. Grazie, signor. Allora, io a questo punto vedo che arriva tantissima altra gente. Le parole sono chiare, il messaggio di questa sera dovrebbe essere filtrato unicamente in questo senso. E' importantissimo che il tifoso riprenda in mano la situazione dal suo lato. Dal lato dei giocatori, da questo momento, con il signor Marco e squadra e gli innesti nuovo-vecchi, in senso, gli ultimi innesti però di gente che ha lottato per noi e sappiamo con quanta fuoco ha lottato. Nel 98 il signor Marco era già qua, loro due erano da un po' prima sicuramente. Quindi, io penso che il vero attaccamento alla maglia è questo. Quando un calciatore decide, e penso che non sia facile dal punto di vista psicologico, di morare una situazione nella quale già era ed era tranquillo, vedi Cirillo, e venire qui, nella sua vecchia casa, a dire vogliamo uscire fuori, vogliamo essere guida di quei ragazzi bravi, perché ci sono ragazzi che abbiamo giocato con 6 giocatori dai 15 ai 18 anni la scorsa partita, e dire indirizzabili, indirizzabili. Baggio nel Brescia era uno, Baggio nel Brescia era uno, e è riuscito a tenere una squadra in Serie A da solo. Con i suoi consigli è andato bene. Con i suoi consigli è andato bene.